buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi martedì 29 dicembre 2020 piano piano ci stiamo avvicinando alla fine di questo anno e dunque lo facciamo come di consueto come mattino alle 7 con l'inizio dei nostri programmi dedicati all'informazione dedicati alla lettura dei titoli nella selezione delle pagine più importanti a nostro giudizio del dei quotidiani che abbiamo in esame qui sul nostro touchscreen ovvero il resto del carlino e il corriere adriatico edizioni di peser urbino ma come vedremo anche andremo a sfogliare anche qualche pagina del nazionale e anche della provincia di ancora come di consueto però prima partiamo con il santo del giorno oggi tra i tanti santi la chiesa ricorda san davide che è stato un grande re e profeta il sole sorgerà alle 7 e 37 tramonterà alle 16 e 47 ma c'è anche il tempo le previsioni andiamole a vedere subito neve sui nostri monti anche se oggi insomma la situazione cambia un po avremo precipitazioni sparse ed occasionali altrove sulle zone di montagna sui nostri appennini con il limite della neve attorno ai 1200 metri ma quello che vorrei dirvi oggi è che bisogna fare attenzione alle raffiche di vento che sono fino a tempesta violenta addirittura nelle zone di montagna di burasca forte nel resto della regione per domani il torna la neve torna la neve nelle ore centrali avremo brevi rovesci sparsi nelle zone collinari per interessare poi il resto della regione nel corso del pomeriggio sera il limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1200 cala verso i 900 metri in serata quindi restiamo comunque in zona di montagna le temperature sono in diminuzione in particolare nei valori massimi per la giornata dell'ultimo dell'anno l'andiamo a vedere subito 31 dicembre 2020 eccola qua avremo qualche breve piovasco sull'anconetano giù sulla parte di san benedetto del tronto soprattutto al mattino poi però nel corso della giornata insomma tutto migliora e il tempo tenderà al bello per quanto riguarda invece venerdì e sabato avremo poca cosa soltanto qualche precipitazione nella giornata di domenica ma già saremo al nuovo anno ne riparleremo nelle prossime ore allora andiamo adesso a vedere subito i giornali cominciamo dalla prima pagina del corriere adriatico edizione di pesaro il titolo d'apertura è per la scuola questa mattina rientro con il nodo bus il piano di ami per metà capienza saranno aumentate le fermate per evitare il rischio di sovraffollamento il preside rossini dice con le le lezioni in presenza al 50 per cento è prevalso il buonsenso era l'unica alternativa possibile dunque non tutti gli studenti torneranno a scuola il 7 di gennaio parliamo degli studenti ovviamente delle scuole superiori prima era il 75 per cento di loro adesso invece la metà di quelli previsti quindi il 50 a centro pagina su tutte le edizioni del corriere adriatico la questione di confindustria il caos all'interno di confindustria il diktat che è arrivato da roma dopo lo strappo tra all'interno di marche nord quindi tra pesaro e incona marche nord sì o no decide l'assemblea poi l'ultima frontiera dei controlli sono i veglioni proibiti quelli che si stanno preparando insomma un po così dentro dentro casa nelle abitazioni coppia arrestata con quasi un chilo di cocaina per lo sballo sempre a pesaro e poi a fano grave incidente feriti due ragazzi travolti da un'auto l'epidemia di missione infrenata e impennata di ricoveri qui di spalla il l'articolo che vedremo tra poco a firma di andrea taffi e poi il vaccino come auschwitz post shock su facebook la rabbia di ricci è abominevole il confronto fatto da un novax lo stesso era in lista con il centrodestra a fano e poi addio a 57 anni al commercialista pedinotti era ammalato di sla e adesso il carlino di pesaro processate ambera per l'omicidio la svolta del jeep di urbino la ragazza accettò il rischio che igli e mario facessero del male ad ismaele post novax sul profilo di ricci sbeffeggia l'olocausto il sindaco sin furia vergogna quei 6 milioni cui con cui risorgerà palazzo olivieri e invece l'intervento di giorgio girelli ospitato sul carlino di pesaro che a centro pagina pubblica la foto notizia di un operatore che rimase contagiato il suo legale segnala tutte le criticità a casa roverella troppe carenze dice lui e poi l'addio a claudia la titolare degli storici bagnilallo di pesaro e a fano le poste centrali chiuse causa covid nessuno avverte esplode la rabbia di taglio basso spacciatori di cocaina 60 anni arrestati una coppia in manette sequestrato un quasi un chilo di droga poi secondo caso questa volta in zona torraccia sempre a pesaro un cagnolino senza scampo sbranato da un cane feroce la pagina del carlino di ancona come stanno le persone che si sono vaccinati gli operatori sanitari che hanno avuto il prima dosi di vaccino nelle marche nella giornata di domenica stanno tutti bene questo è il titolo della foto notizia rassicurazioni della direttrice asur sui sanitari vaccinati nessuno dei 200 operatori che hanno fatto l'iniezione ha comunicato sintomi o allergie il paziente zero delle marche dice il primario pansoni dice tutto ok possiamo tornare alla normalità e allora entriamo nelle pagine interne questa mattina cominciamo da chiamiamolo così colpo di scena neanche tanto ma sul processo dal sul processo che o meglio che si ci sarà quindi contro ambera saligi e qui parliamo del delitto del delitto di ismaele lulli ismaele lulli lo ricordiamo un ragazzo di 17 anni di sant'angelo invado che venne ucciso alle 14 30 del 19 luglio del 2015 con un taglio della gola dietro alla chiesa di san martino in selva nera qui igli e igli meta e mario mema legarono il povero israele ad una croce e lo uccisero gettandolo poi nel dirupo i carabinieri arrestarono il 22 luglio sia igli meta che mario mema di 19 e 20 anni nel giro di poche ore igli confessò tutto mentre mario cercò di schivare l'accusa di aver partecipato all'esecuzione a mise solo di aver visto farlo rimanendo però lontano la fotografia è si riferisce a ismaele lulli le condanne la corte di cassazione confermò l'ergastolo per entrambi gli imputati il 27 giugno 2019 e dunque anche il risarcimento danni per la mamma debora e la sorellina erica pari ad un totale di 800 mila euro che però nessuno ha mai pagato questa è la la cronistoria ma il titolo dicevo su questa vicenda svolta nel delitto ambera va processata il gip di urbino impone l'accusa coatta la procura la ragazza accettò il rischio che igli e mario potessero fare del male al suo ex amante l'ipotesi del giudice onde spiare il tradimento si era volutamente posta in una situazione di cooperazione al progetto vendicativo e mamma debora potrà finalmente dirmi dice perché atteso la trappola a mio figlio mamma debora che più volte durante il primo processo ha chiesto di processare anche lei perché anche lei aveva comunque la sua responsabilità la tenacia della famiglia della vittima nel chiedere il coinvolgimento della giovane non ho avuto da loro neppure un euro pur essendo stati condannati a pagarne 800 mila ma non rinuncio dice debora lulli di 47 anni di sant'angelo invado con una figlia appunto di 9 non rinuncio al processo andiamo a fano invece adesso perché a fano c'è stato un problema ieri mattina alle poste centrali di via garibaldi gli uffici erano chiusi per i primi avventori senza nessun cartello senza nessuna scritta nessuna motivazione si sono formate quindi inevitabilmente code e anche proteste i dipendenti hanno lasciato lì armi e bagagli e sono tornate a casa per consentire la sanificazione degli uffici perché il covid è entrato appunto evidentemente qualcuno è stato trovato positivo però ripeto nessun cartello questi sono presi sono andati via senza dire niente e chiaramente la mattina insomma ci sono tanta gente intorno vedete la fotografia ieri mattina hanno riaperto soltanto intorno alle 11 e 40 ma nel frattempo tanti si erano rivolti da altri sportelli mettendosi di nuovo in fila ad aspettare questa però una foto d'archivio non c'entra niente con la mattinata di ieri anche perché ieri c'era il 27 era il giorno di pagamento delle pensioni tanti dovevano richiedere lo speed mentre l'altra notizia sul carlino di questa mattina afferma sempre di anna marchetti è riguarda lo screening di massa sono stati scelti i siti per lo screening a fano a fano si terrà dall'8 al 13 di gennaio e sono stati scelti due due siti dove poter fare questo tampone antigenico rapido che è importante lo ricordiamo dall'8 al 13 di gennaio a fano si potranno fare questi tamponi gratuitamente sia nella sede della protezione civile quindi nella nell'area del codma di rosciano di fano e poi è stata scelta la palestra venturini quindi siamo veramente a ridosso del centro storico e per fare questo questo screening di massa fano verrà messo in campo ha detto eugenio carlotti responsabile del dipartimento di prevenzione una potenza di fuoco di circa 120 persone tra infermieri che saranno in tutto 80 medici e personale della croce rossa italiana e della protezione civile e dall'area vasta chiaramente invitano tutti a organizzarsi e a partecipare a questo screening di massa quindi tutti i fanesi tutti quelli che sono nel comune di fano la cronaca sempre da fano due ragazzi investiti da un'auto un 19enne trasportato a torrette di ancona ha ferito una ragazza di 14 anni altre fonti dicono 24 anni qualcuno 14 questo è successo ieri sera intorno alle 19.45 quindi anche per i giornali non è stato facile recuperare poi le informazioni prima della chiusura delle pagine l'incidente è avvenuto nel quartiere Sant'Orso i due attraversavano sulle strisce pedonali diciamo che a prendere sotto a investire questi ragazzi è stata una Fiat Panda una Fiat Panda guidata da una da una persona che a un certo punto però ha dichiarato ha dichiarato di di non averli visti ma non tanto per il buio 19.45 e chiaramente è già notte ma perché aveva gli occhiali appannati ecco questo capita capita quando si tiene la mascherina con con gli occhiali da vista ma non può capitare dentro una macchina quando si guida soprattutto se si è soli perché abbiamo detto che quando si è soli la mascherina in auto non serve praticamente a nulla è inutile mettere la mascherina quando si è in auto da soli soprattutto proprio per evitare che gli occhiali si appannino poi esistono dei prodotti degli spray che si possono mettere negli occhiali che evitano che questi occhiali si appannino l'unica cosa che si può fare in auto quando si è soli questa è una buona pratica è quello di disinfettare invece il volante e il cambio della macchina dargli una spruzzata questo sì che può essere utile ma la mascherina quando si è da soli in auto non serve praticamente a niente anzi serve a prendere sotto le persone è morto il commercialista che amava il teatro e la musica parliamo di Roberto Pedinotti aveva 57 anni colpito da SLA ha rifiutato i sussidi meccanici Roberto se l'aspettava quindi per questo scrive Massimo Foghetti ha rifiutato ogni sussidio meccanico che gli desse qualche mese di vita in più non volendo prolungare un'agonia che si stava facendo sempre più dolorosa e di questa morte ne parla anche il resto del Carlino con questo titolo il canto del guerriero addio a Robi Pedinotti ne parla e lo ricorda Mirka Rosciani che dice sul palco brillava gli ero molto legata dal primo momento aveva creduto in me i funerali si terranno nella chiesa di San Pio X credo da quello che mi hanno riferito ieri che saranno domani ma ancora non era stata decisa non è stato deciso ancora l'orario era appassionato di musica faceva parte del coro del teatro della fortuna torniamo un attimo indietro perché sul Corriere Adriatico sempre nella pagina di Fano c'è un di taglio basso una notizia che riguarda la capanna del Folletto che si trova a Fossombrone che è un po meta di tante mamme e tanti bambini è una struttura che purtroppo recentemente è stata danneggiata dai vandali che però resta tuttora meta appunto di mamme e bambini è una struttura che è stata realizzata con materiale naturale da Ermanno Allegretti che vedete in questa in questa fotografia tornando sempre sul sui giornali vediamo il resto del carlino sulla scuola Nolfi la nuova scuola non prima del 2023 queste sono le notizie che ha dato il presidente della provincia Paolini e non c'è nessuna certezza nemmeno per la disponibilità del Battisti dal prossimo anno la certezza che il Nolfi possa disporre dell'edificio del Battisti dal 2021 disponibilità legata al completamento dei lavori di riqualificazione dell'Olivetti poi per quanto riguarda invece la cronaca anche qui due giovani travolti da un auto a Sant'Orso il conducente dice occhiali appannati non li ho visti a Pesaro bagni lallo addio a Claudia Felicita scomparsa a 68 anni la titolare dello storico stabilimento balneare il cordoglio di tanti albergatori l'attività di riferimento aperta dal padre nel 1972 è stata pian piano ammodernata nel corso dei decenni il funerale si terrà mercoledì 30 dicembre quindi domani alle 14 e 30 nella chiesa dei cappuccini in via Cardinal Massaia e poi sulla pagina sempre del resto del carlino a questo punto apriamo la parentesi dedicata al covid ma soprattutto per parlare di questa questa bagarre di questa presa di posizione se vogliamo anche del di qualche esponente politico del governo che comincia a dire i vaccini devono essere obbligatori e qui si sta aprendo un grosso dibattito anche se siamo nelle alle prime punture ma c'è da aspettarsi che la questione diventerà sempre più importante e sempre più bollente allora il titolo di della pagina 4 del carlino nazionale è vaccini obbligatori il governo si spacca i medici parlano di di escludere dalla professione i coloro che si rifiutano quindi gli obiettori la sottosegretaria zampa dice precondizione quindi il vaccino è precondizione per chi lavora nel pubblico ora non si tratta soltanto di operatori sanitari quando parliamo di pubblico parliamo anche di insegnanti parliamo di operatori della polizia delle forze dell'ordine insomma tutti quelli che hanno a che fare con il pubblico sono dipendenti pubblici devono secondo alcuni come la sottosegretaria zampa devono obbligatoriamente vaccinarsi ma la ministra dadone la corregge e dice no obbligare non è la strada giusta magari solo una forte raccomandazione questo è un po quello che in questo momento si sente chi da chi è favorevole da chi è contrario intanto sono un centinaio i dottori in tutta italia una ventina solo nella provincia di pesaro urbino contrari anche nelle case di riposo al farsi il vaccino a roma però ci sono già dei provvedimenti procedimenti disciplinari però qui stiamo parlando lo stavo dicendo ecco lo stavo leggendo qua ci sono dei medici leggiamo insieme ci sono dei medici che non vogliono essere vaccinati con diverse però motivazioni che solo a volte coincidono con posizioni novax un esempio sono i 13 medici tra novax e negazionisti su cui l'ordine dei medici di roma ha in corso un procedimento disciplinare si tratta di dieci colleghi contrari al siero anti influenzale e di tre negazionisti covid puntualizza l'ordine svelando corposi esposti di colleghi e cittadini ora posso capire posso capire il in questa prima fase in cui ancora tutto è così sta sta scorrendo tutto velocemente posso capire qualcuno che ha qualche dubbio ma negare il covid siamo già ad un altro livello intanto si possono imporre ma serve una legge il costituzionalista clementi ne parla a pagina 5 del resto del credito di questa mattina se la presidenza del consiglio pensasse a queste ipotesi cioè quella di imporre i vaccini però non potrebbe procedere con i dpcm serve qualcosa di più solido qualcosa di più forte intanto serve uno stato di necessità esempio se i dati dovessero peggiorare oppure l'immunità di gregge dovesse essere troppo lontana ecco in quel caso allora si potrebbe pensare ad una legge per obbligare il vaccino e si potrebbero così evitare ricorsi anche alla consulta sempre sulla questione vaccino tornando in casa nostra guardate questa fotografia che già ieri stava facendo un po' il giro del web perlomeno qui nella nostra provincia si tratta di un fotomontaggio un fotomontaggio che è stato inserito nel profilo facebook della pagina di matteo ricci sindaco di pesaro da werter orazzietti candidato consigliere nella lista civica di lucia tarsi alle scorse amministrative affano e questo posto e questa fotografia dove si legge vaccino rende liberi il vaccino rende liberi ecco questa fotografia ha fatto infuriare il sindaco ricci il quale dice abbinare la più grande operazione di massa per liberarci dal covid 19 la tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole come reagisce che cosa perché orazzietti ha così voluto pubblicare questa questa fotografia risponde al telefono a solidea vitali rosati del carlino e dice orazzietti sul vaccino mi piacerebbe che ci sia la libertà di scelta cerco di proteggere la mia famiglia in qualche modo tra l'altro riceva parlato di leghista all'inizio sbagliando e mandando su tutte le furie il gruppo della lega della provincia il quale visto l'errore passa all'attacco e dice non è uno dei nostri ora ricci si scusi sotto invece il dottor claudio cicoli mentre si sottopone al vaccino domenica scorsa dice tra pochi giorni insomma tra pochi giorni ci saranno arriveranno qui nella provincia di peso urbino 6.000 dosi e claudio cicoli che è uno dei medici che si è appunto già vaccinato racconta un po la sua esperienza dice mi sono svegliato più sereno e ottimista e naturalmente il dottor cicoli così come coloro che ieri si sono vaccinati domenica si sono vaccinati dovrà fare un richiamo nella seconda metà di gennaio e un terzo richiamo quest'estate e poi però è qui diciamo che è la parte che fa un po stridere questa cosa che po lascia un po perplessi nel senso che qualcuno dice vabbè ma allora continuare oltre ai richiami dovrà continuare cicoli tutti quelli che si vaccineranno a seguire le buone pratiche già intraprese quindi dovranno indossare comunque le mascherine stare distanti e genizzarsi le mani frequentemente ora capite che già quando la situazione è un po così dove non si sa se farlo o no dove non sappiamo quanto tempo renderà immuni quanto tempo difenderà insomma tutta una serie di problematiche che sappiamo bene è inutile a ripetersele poi quando si legge che una volta che uno ha fatto il vaccino deve continuare a fare tutto quello che fanno gli altri che non si vaccinano capite che questo non è molto invitante non invita molto a vaccinarsi nel senso che sì per carità uno dice io mi metto la mascherina sto distante mi igienizzo le mani però anche la certezza di non beccarmi il virus per quanto tempo non si sa però ripeto ognuno poi deciderà in coscienza come fare e se farlo entro settembre sarà immunizzata invece lo ricordiamo la metà della popolazione marchigiana intanto frenano le dimissioni la curva dei ricoveri da tre giorni ripartita più 58 degenti in attesa di misurare gli effetti del lockdown di natale i pazienti di malattie infettive di pesero supera quota 511 nelle ultime 24 ore invece le vittime sulla variante inglese quanto è diffusa sapete è stata trovata anche nelle marche in una famiglia di loreto diversi diversi test sono in corso serve però tempo parla il direttore di virologia menso che dice seguiamo i casi autoctoni e i rientri dall'inghilterra intanto si controlli anti covid è spuntata anche la droga a sorpresa quasi un chilo di cocaina che è stato sequestrato a pesero i carabinieri arrestano marito e moglie insospettabili lo stupefacente era per lo sballo delle feste quali feste poi da capire perché insomma dove dove sono queste feste ma comunque l'auto fermata in via paganini la perquisizione poi proseguita a casa in viale trento il cane finisce invece sull'isolotto salvato dai pompieri i vigili del fuoco allertati dal padrone che lo aveva praticamente perso il veglione proibito nelle case l'ultima frontiera dei controlli ecco qui qui c'è qualcuno che di feste evidentemente ancora ha voglia e quindi c'è qualche sentore c'è qualche 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 segnale che sta arrivando soprattutto in chat qualche festa che evidentemente vuole sfuggire ai controlli qualche festa che vuole essere organizzata in qualche modo però qui si parla dei viglioni dell'ultimo dell'anno che sono che qualcuno sta pensando di organizzare nelle case private quindi nella propria abitazione san silvestro e capodanno i giorni dove il livello di guardia rimarrà alto il prefetto di peso urbino la polla continua a raccomandare ai cittadini il rispetto delle regole da natale intanto fino a domenica 17 sanzioni contestato un illecito ad un servizio intanto invece a carpegna l'unico positivo è il sindaco ruggeri dice io mirco ruggeri dice io mi sono ammalato il 14 di dicembre sono l'unico positivo del mio comune e ci ride un po' su ride su perché fortunatamente diciamo parte un forte raffreddore un raffreddore per il resto se la sta passando abbastanza abbastanza bene mi sono isolato dalla mia famiglia e nel mio nel mio albergo ho preso una stanza e mi sono curato praticamente lì sui tributi scattano verifiche per 6 milioni siamo a pesaro obiettivo recuperarne almeno la metà pieri presidente aspes annuncia che da gennaio partiranno gli avvisi per le imposte non versate la pandemia e il lockdown hanno di fatto congelato nel 2020 anche tutti gli accertamenti stiamo parlando della vecchia icci l'imposta municipale sugli immobili per quanto riguarda invece il tempo abbiamo detto all'inizio della nostra rassegna stampa che è caduta in queste ultime ore tanta neve anche sulle nostre montagne dai Sibillini fino al Catre, Nerone, Carpegna purtroppo però c'è la neve ma non ci sono gli sciatori e quindi i gestori sono un po' arrabbiati pesa l'incertezza sulla riapertura delle stazioni scistiche il 7 di gennaio nonostante il mezzo metro di Coltre Bianca dal Catria dicono puntiamo su cabinovia e rifugio Eugenio Burani fermi da due anni i costi corrono più che stare pronti non possiamo fare altro quindi c'è la neve adesso bisogna solo aspettare che torni la possibilità di andare a sciare intanto c'è una storia che viene raccontata sul Corriere di Pesaro il sogno di Viola per sua sorella voglio regalare a lei l'autonomia si chiama Casa Nostra è un progetto destinato alle persone diversamente abili penso ad uno spazio dove con gradualità ci si possa emancipare dalla famiglia e la ragazza ha lanciato un crowdfunding una raccolta fondi su internet per sensibilizzare e trovare appunto i fondi necessari andiamo avanti Marche Nord avanti o addio parliamo di Confindustria Roma parola alle assemblee dopo il passo indietro di Papalini entra il vicario Bocchini la roadmap nella lettera dei provvibili di Roma le territoriali di Ancone e Pesaro dovranno esprimersi prima da sola e poi insieme oppure si scioglie praticamente tutto Vallefoglia l'anno nuovo tra mille ostacoli ma io sono sempre un ottimista dice il sindaco Palmirocchielli che rilancia il suo territorio ma si pella ai cittadini e dice prudenza ci fermiamo qui non c'è altro tempo purtroppo il tempo è finito vi lascio alla Santa Messa e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci grazie a tutti